Lo sapevi che l'ex lottatore Raven è forse il pro-wrestler dal quoziente intellettivo più alto di sempre? Stando ai test ufficiali ai quali si è sottoposto, il suo QI sarebbe infatti di 143 e questo gli ha permesso di far parte del Mensa, un'organizzazione no profit aperta soltanto a chi ha un'intelligenza superiore al 98% del resto della popolazione. Tutto ciò non gli ha impedito di appassionarsi anche a temi meno scientifici, come i fumetti e, identicamente al sottoscritto, Raven è un amante dei cavalieri Marvel e in special modo di Daredevil.